Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vedremo cosa mi è arrivato da Stickets che è un sito che fanno degli sticker bellissimi questo è il pacco che ho ricevuto ma non posso farvelo vedere perché qui c'è il mio indirizzo ma già l'ho aperto da sotto e adesso andiamo a vedere insieme che cosa mi hanno inviato ecco qui sembra che dentro non ci sia più niente aspettate il controllo, perfetto sposto tutto e vi faccio vedere cosa ho ricevuto oh mio dio che carino guardate questa è una specie di una carpetta tipo wow adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro questo, aspettate un attimo che lo tolgo perché c'è il mio indirizzo ecco guardate che cosa carina sono tipo delle etichette per delle celebrazioni particolari tipo matrimoni, comunioni, battesimi che carine sono dolcissime mi piacciono un sacco poi c'è questo sconti legali e sconti carino e poi c'è questa che adesso andiamo a vedere insieme guardate come sono messe bene c'è queste che sono delle etichette aspettate che le prendo per le valigie io ovviamente mi sono fatto fare tipo come se fosse un portaciavi e c'è scritto le creazioni di analisi ho scelto io la grafica e ho scelto io il modo il tipo di scrittura qui ci sono i anellini per farlo diventare un portaciavi adesso vediamo anche l'altro che è uguale però arancione guardate che carino sono bellissime guardate poi sono in metallo tipo sono belli bellissimi mi piacciono un sacco già questi guardate che belli poi andiamo avanti vediamo anche questi guardate che meraviglia sono degli adesivi vedete guardate che dai non voglio rovinarlo ecco sono degli adesivi sono bellissimi li ho fatti fare io di questi quattro colori mi sono piaciuti un sacco guardate questi invece sono degli adesivi per delle scarpe sono belli e questi sono degli adesivi più grandi poi ci sono questi che sono quelli più piccolini e quelli più grandi sono sempre di questi quattro colori perché io ho scelto queste quattro fantasie ma sul sito se vedete ci sono tantissime fantasie anche tipo con le stelline con i quadrettini se non mi sbaglio non mi ricordo bene di preciso cosa erano però ce ne sono tanti tipi e tanti modelli potete poi sceglierveli voi poi vediamo qui cosa c'è a queste invece sono delle etichette per dei vestiti ecco lo troverete con questo e ci sono questi due tipo fogli di carta sembra carta da porno ma credo sia carta adatta per per stirare i suoi vestiti e queste tipo si attaccano proprio i suoi vestiti sono bellissime guardate che carine credo che si mettano così tipo sulla maglietta e poi stirate sopra sono veramente belli ma Stikets ha voluto fare non solo questo magnifico regalo a me ha voluto fare un magnifico regalo anche a voi mi ha proposto di fare un giveaway che io ovviamente ho accettato praticamente riceverete le stesse cose che ho ricevuto io ma ovviamente ve le personalizzerete voi a modo cioè come piace a voi ve le potete personalizzare come vi piace adesso vi elencherò tutte come si dice tutte le regole per poter partecipare a questo giveaway la prima regola è di seguirmi sul canale su questo canale giù in po' box poi troverete il link del sito di Stikets andate a dargli una occhiata e seguiteli sui loro social che saranno elencati poi sul sito poi per partecipare al giveaway dovete lasciare un commento qui sotto e mi raccomando dovete condividere questo video su tutti i vostri social preferirei che mi lasciaste un commento con scritto magari partecipo e poi mi lasciate accanto il link dove avete condiviso questo video sarebbe meglio così mi viene più facile andare a controllare poi dovete anche mettere mi piace a questo video seguire il mio canale come vi ho detto e niente poi essere maggiorenni o avere il consenso dei genitori questa è una cosa fondamentale e il giveaway scade tra una settimana precisa nel senso scadrà il prossimo lunedì e io martedì farò l'estrazione e dirò chi ha vinto chi avrà vinto avrà un codice sconto che può andare utilizzare sul sito di Stikets cioè avrà questo mio stesso set in regalo cioè completamente gratuito però dovrete mi raccomando seguire tutte le regole perché io andrò a controllare se avete seguito o no le regole poi un'altra regola che potete commentare soltanto una volta perché se commentate più di una volta non va bene perché togliete la possibilità agli altri di poter vincere mi raccomando un solo commento uno solo a testa come vi ho detto ci sarà solo un vincitore l'estrazione la farò il prossimo martedì cioè lunedì finisce il giveaway martedì farò il video dell'estrazione e niente io spero che questo video vi sia piaciuto ma soprattutto che vi sia stato utile mi raccomando seguite tutte le regoline e noi ci rivediamo al prossimo video ciao